15 novembre. Oggi parliamo di un santo di nome si chiamava Iosef Kalinowski, di nazionalità polacca, in religione perché diventerà poi carmelitano, si chiamerà padre Raffaele di San Giuseppe, un santo legato con più fili, con il grande papa Giovanni Paolo II. Innanzitutto era polacco, ma poi sarà lui, questo santo, San Raffaele di San Giuseppe, a costruire a Badovizze il paese natale di Giovanni Paolo II, di caro lui Diuwa, a costruire il convento carmelitano. E non solo, ma sarà poi Giovanni Paolo II a proclamare santo, appunto, fra Raffaele di San Giuseppe. Ma andiamo con ordine. La Polonia era spartita tra Russia e Germania e si era nel 1835 quando nasce Joseph Kalinowski. Nasce da una famiglia nobile e nasce a Vilnius. In realtà Vilnius è una città attualmente capitale della Lituania. Allora era abitata al tempo stesso da polacchi, lituani e una piccola minoranza russa. È una famiglia nobile la famiglia Kalinowski. Il piccolo Joseph è intelligente e ha l'opportunità di studiare e diventa ingegnere militare, diventa uno che progettava stazioni ferroviarie, progettava fortini militari. Ma nel 1863, quindi quando egli aveva 28 anni, scoppia la grande rivolta polacca contro la Russia. Una rivolta che verrà sedata nel sangue. E tuttavia, ecco, lui partecipa, ma non direttamente ai combattimenti. Infatti a motivo della sua cultura, della sua posizione sociale, anche della sua fede e del suo attaccamento allo spirito nazionale polacco, viene addirittura nominato dal governo provvisorio ministro degli interni. Egli accetta, a condizione però, di non dover firmare condanne a morte di eventuali colpevoli di delitti o di eventuali soldati nemici. E quando però la rivolta polacca viene sedata, dicevo, nel sangue, quando la Russia riprende il controllo del territorio, tanto nell'attuale Polonia che nell'attuale Lituania, egli viene mandato in confino, in prigione, viene mandato in Siberia a meno 40 gradi, porta con sé un crocifisso, porta con sé la Bibbia, e porta con sé, oltre alla Bibbia e al crocifisso, solamente un libro della imitazione di Cristo. Diceva, nella sofferenza, con gli altri compagni prigionieri, possono toglierci tutto, ma non possono toglierci la possibilità di pregare, non possono toglierci la preghiera. Diventa altresì un vero santo, un vero uomo che vive e offre la sofferenza con amore. Graziato dallo zar, per un po' di anni vive in Europa occidentale, poi torna in Polonia e si consacra tra i carmelitani, a Graz. E a Graz diventa un po' il padre spirituale di tutta la città. Tutti cercano il suo confessionile, tutti vogliono parlare con lui, che oramai non è più l'ex ministro degli interni, Iosef Kalinowski, ma è Fra Raffaele di San Giuseppe. Diventa un uomo ricercatissimo, infama di santità, già in vita, e fonderà diversi conventi, tra cui, dicevo, il convento di Vadovizze, che è la città natale di Giovanni Paolo II, di Karol Uetiva. Questo convento di Vadovizze diventerà un luogo in cui si formerà il futuro pastore, il futuro santo, Papa, Karol il Grande, che appunto avrà una spiritualità mariana fortissima. E in questa spiritualità mariana l'elemento carmelitano è molto visibile e importante. C'è una foto poi di Karol Uetiva, quando era giovane, ancora operai della Solvei. Ebbene, questa foto lo mostra a petto nudo, mentre lui ha lo scapolare della Madonna del Carmine, appunto, sul petto. È il segno del legame con la spiritualità carmelitana, che appunto si svilupperà a Vadovizze dopo la fondazione del convento carmelitano ad opera di San Raffaele di San Giuseppe. San Raffaele di San Giuseppe, uomo di carità e di preghiera, grande maestro di santità di Giovanni Paolo II, morto nel 1907, il 15 novembre, appena 13 anni prima la nascita di Giovanni Paolo II, prega per noi.